le associazioni. Voglio ringraziare anche la mia notarlese. A me è arrivata stamani la lettera del Comitato regionale degli assistenti sociali e denuncia una problematica che è molto forte perché vi è la protesta che si sta sempre più esprimendo negli uffici dell'Inps, negli uffici preposti e competenti, anche di persone mai viste che arrivano con tono particolarmente aggressivo, quindi vi è a mio giudizio la necessità di li diluire nel tempo. Condivido la proposta del Comitato regionale delle assistenti sociali nel far slittare un po' i tempi perché gli uffici preposti possano essere nelle condizioni anche di reggere un'onda, un urto che è più che legittimo. Vedere con uffici sguarniti nel mese d'agosto il carico di proteste che potranno arrivare, secondo me è una scelta di buonsenso quello di slittare. Ho scritto proprio per questo al Ministro consentendo a quello che è il livello di proposta e di preoccupazione espresso dagli assistenti sociali.